La prossima edizione del mercato antiquario di Lucca non si farà. Le voci che già circolavano fra gli operatori hanno avuto conferma con la delibera firmata giovedì dall'amministrazione comunale. La notizia coglie di sorpresa la CNA che critica la decisione presa da Palazzo Orsetti. L'associazione di categoria non comprende quello che definisce un cambio di marcia senza che ci siano imposizioni più stringenti dal governo. Di fatto da maggio ad oggi i diversi provvedimenti hanno tutelato i mercati. Non si è mai registrato nessun focolaio fa notare CNA che lancia una proposta. Il comune piuttosto che prevedere la chiusura delle manifestazioni potrebbe mettere in campo azioni che tutelino lo svolgimento delle attività. La categoria degli ambulanti è una categoria che ha molto sofferto come tante del resto in questo periodo e chiediamo, a meno che non ci siano provvedimenti superiori che lo impediscano, di poter proseguire la loro attività. Lo hanno fatto gli operatori in primis con grande coraggio, con grande rispetto dei protocolli Covid. Chiediamo al comune di seguire le linee guida nazionali. Quindi se è consentito fare i mercati, di continuare a farli. E di mettere in campo tutte quelle azioni previste dai protocolli per la tutela e la salute dei cittadini. Ma non certo di chiudere le attività laddove questo non sia richiesto da provvedimenti superiori.